eccoci qua a fare la spesa va bene si si vediamo un po vediamo un po no l'aria è condizionata e ci siamo iniziamo andiamo a pagare una fattura che la fattura non me l'ha data la maga e la fattura la fattura della fattura che bisogna pagare la vita dello youtuber non ho potuto caricare ultimamente che uno short però adesso faccio la spesa faccio la spesa faccio la spesa faccio la spesa e adesso devo pagare la fattura quindi ho appena finito di pagare la fattura cerchiamo di inquadrare meglio l'altra volta mi sono inquadrato male quando ho fatto la spesa l'altra volta perché poi voglio far vedere quanto che grande un piazzale enorme come luogo d'accesso l'uscita dalle case e questa volta voglio voglio farmi voglio filmarmi meglio naturalmente non posso firmarmi a tutto campo primo perché uno piace a 302 da battaglia quando esco fuori casa che poi ci sarà chi mi dice i primi di quattro i primi di lasti film e scusi dove si trovi dove si trovi e io non ve lo dico dove mi trovo tanto tanto che mi frega però vediamo perché c'è un controllo della temperatura ho caduto il denaro 35.9 quindi va bene 36 gradi mettiamoci l'alcol sono messo l'alcol nelle mani per il covid ancora con qui sono qua senza mascherina ma con l'alcol e termometro qua l'altra volta ci sono venuto un tempo fa per accompagnare mia madre si era rotto il vino si era rotto il vino una casa di rosato non so se l'avete visto nell'ultimo video ecco io per precauzione gli ho chiesto no perché non ho fatto non ho contato bene mancano dieci mi ha detto no stanno lì ah bene a mia madre non piace che filmi nel mercato no perché ci sono le camere di vigilanza che filmano come pure io non so se si ascolterà bene però visto che la custodia in gomma in latex di questo cellulare è amplificabile e niente vediamo l'elettronica siamo liberi di camminare perché a mia madre non piace non piace per i figli e chiedere troppo a uno youtuber che non si finisce tanto neanche sanno che mi sto filmando perché pensano che non so che sto vedendo per cosa è un cellulare col quale nessuno più si filma oggi giorno e che dire facciamo un video per ammazzare il tempo intanto mia madre la fa la stessa faccio cavo hdmi supporto per la tele batteria che ve lo racconto a fare tanto non ve lo faccio vedere ci sono dei protettori di tensione marcia come sono aumentato che poi c'è qualcuno che vede i prezzi e in euro e in euro tutto in euro tutto in euro televisori e qua e là un sacco di televisori ma ciao 90 giorni per poi devolvere il flessibile se prendi un flessibile non funzioni 90 giorni quindi io c'ho un sospetto che il flessibile non funzioni poi c'è che ah l'antenna ti rendono non so non so non so non so non so non è sempre la stessa tele microfono karaoke in alampico io mi sono subito fiondato nella nell'elettronica e c'è chi dice stai in Venezuela no in Venezuela tutto questo non ci sarebbe stai a Tenerife come il greco come il greco stai a Tenerife come il greco no se no mi filmerei con il greco perché io sono grecario stai in Spagna stai in Messico stai in New Messico che si parla tanti idiomi e io non ve lo dico non ve lo voglio dire non l'ho detto per undici anni no dove facevo le vacanze se le facevo ogni tanto dico qualcosa ma vi lancerei una pista un po' troppo solida se vi dicessi che nei miei primi tre anni quattro di youtube ho detto dove mi trovavo solo che la gente non guardava i miei video i miei primi tre o quattro anni di video dal 2013 7 febbraio 2013 a 2016 2017 che facevo dei video parlando di tutto quindi magari in un video in uno di 40 minuti fatto dal 2013 al 2017 e io vi dico dove mi trovo chissà chissà se da allora mi trovo ancora nello stesso luogo o no chissà chi lo può dire capito? chi lo può dire capito? voi lo potete dire? no perché non ve lo faccio dire io? no oggi voglio fare un po' un video sui generis va bene che io non c'ho mai un genere di video però lo voglio fare oggi alla Gabriele alla Gabriele mei che saluto ciao lui non guarda mai i miei video non li ha mai guardato e quindi voglio fare un video alla Gabriele mei dove sono? dove sono? io sono? e dove sono? sono o non sono? ecco se voi volete che io faccia un video sull'argomento abbonatevi e dopo un anno di abbonamento con 200 euro al mese che io pago tutte le mie spese ve lo dico chi sono chi non sono dove sto dove non sto perché sto se no qua sto vedendo i cellulari nel caso me ne servisse uno ve lo faccio sapere così mi pagate c'è qua un bellissimo redmi della xiaomi che costa scontato non si capisce bene quanto ti mettono una dozzina di prezzi però c'è anche lo smart watch io non ho mai capito a che serve redmi 10 c voi ne... com'è il 10 c? c'è pure un cellulare coda? che quello lo... lo scarterei subito cioè non scarterei la confezione del cellulare proprio lo scarterei come cellulare lo... capito? poi c'è un redmi note 11 che dicono che quello semplice è cattivo invece bisognerebbe prendere il redmi che viene con il nuovo Mew poi c'è un moto G23 che non mi sembra cattivo a vederlo c'è un buon design cioè c'è lo stesso design del cellulare che mia madre mi ha regalato nel marzo 2023 l'age 30 Fusion però non è lo stesso non costa lo stesso e non è lo stesso dice che il moto G23 è quattro volte più sensibile alla luce bassa lo so infatti il mio motorola age 30 Fusion nella stanza al buio mi sono fatto una live in Facebook con solo la luce dello schermo senza che si azionasse il flash dello schermo e certo mi filmava intermittentemente come i vecchi cartelloni al neon che si spegnevano e si accendevano però è perché la nuova linea di camere della motorola che è molto sensibile alla luce non perché il G23 è meglio del del e il G30 Fusion ma perché proprio la nuova linea di camere quindi la puoi ritrovare anche nei cellulari più economici soltanto che quanta memoria ha il G23 c'è una ricarica turbo di 30 watt nel G30 Fusion e ha 68 di watt di ricarica turbo però io utilizzo il caricabatterie del Moto E7 Power poi vediamo un casa Samsung che hanno qua possa via ma già hanno un e ormai devo togliermi non so come cavolo mi sto filmando eh S21 Fe cioè una riedizione Fan Edition del S21 e qua costerebbe più o meno secondo quanto dicono nella vetrina 1133 dollari caro poi qua mi sembra da riconoscerlo dal design che è il Galaxy A24 dicono che è meglio di 54 costa 349 dollari è meglio la 54 che la 24 logica tutta la vita ah e invece 109 dollari costa il Coda la schiappa del Coda è meglio un ti spendi un po' di più 339 dollari c'hai un Redmi Note 11 della Xiaomi meglio molto meglio il Coda che proprio stai a un livello abissale abissale c'erano molti i Redmi e poi e poi non trovo non trovo Motorola no Motorola no Motorola l'avevo trovato qua nel mezzo ma c'è poco Motorola troppo poco Motorola caro i più cari della Xiaomi i Redmi sono a livello di medio e medio basso e basso della Motorola e poi peraltro il più caro Redmi Note 11 che sta qua non so se c'è il Note 12 credo di no 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 qua c'è un altro che dice di essere il 12 C sarà non so perché C però è meglio il G23 che costa 239 ma ha caratteristiche migliori perché non è importante la camera è importante il microprocessore ai 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 la musica i diritti d'autore lo taglieranno partito partito il parlante della musica proprio dove sta fare io poi c'è musica ovunque io non riesco a capire come ci rendono difficile la vita a noi creato scontente una canzone qua in questo settore aria condizionata che vibra vedete come vibra vediamo un po' guardate un po' il magazzino perché adesso mi filmo io io non so se mi toglieranno l'audio questo video perché l'altra volta l'altra volta non c'era la musica che c'è qua che è enorme è pazzesco ma di nuovo passo vicino alla musica mi taglieranno quasi tutto l'audio guardate guardate com'è grande io qua una volta sono venuto anzi vengo sempre qua a ritirare i soldi che youtube mi paga alla Western Union alla Western Union che si trova in questo interventato che non dico il nome perché insomma ci sono i libri ci sono i libri che insomma i più letti i più letti come sarebbe a dire come come sanno che sono più letti insomma riviste infantili e dovranno mettere in questo settore giustamente la musica a palla giocattoli vediamo un po' intanto guardo se funziona il timer perché in questo cellulare il Nokia 302 c'è il vantaggio che ti dice quanto tempo di registrazione ti rimane ancora cosa che non so perché non succede nei cellulari Android perché nei cellulari Android non mettono un tempo alla rovescia adesso so che mi rimangono due ore con dieci minuti di registrazione perché ho messo una targhetta da 16 gigabyte prima ci avevo non so se un'ora e passa mi sembra che con questa targhetta dovrei registrare più di due ore e mezza però succede che magari il cellulare non ne conosce perché accetterebbe anche una targhetta da 32 gigabyte però già mi basta con due ore e mezza perché non è che registro un video di 3-4 ore semmai prendo un pendrive e metto poi ci stanno tutte le cose della ginnastica io sono speranzoso che vabbè se per caso ci sono dei reclami di diritti d'autore questa volta non cancello l'audio perché nell'ultimo video che facevo la spesa questo è proprio l'ipermercato ho dovuto cancellare due minuti di traccia audio poi la gente si stanca e se ne va dal video perché non sente nulla mi vede parlare ma invece qua ci sono le biciclette invece qua non lo faccio per avere dei guadagni perché tanto di solito di questi video larghi facendo la spesa quante persone guarderanno due ore di questo video? una ora? quante non faccio? quasi nessuna queste sono delle pantufole in promozione si vede che nessuno nessuno si compra se no non le mettono a promozione che ti credi? vestiti perché appunto è un ipermercato parle vous françois ma no che dico non importa non importa qua l'importante è che c'hai dei guattrini poi quello che parli e voi ci sarete già arrivati no? a quello che si parla qua però vabbè c'è sempre chi mi dice ma stai in australia ma stai in giamaica ma stai stai buono e io non ve lo dico non ve lo dico anzi mi toglie mi toglio il capello jeans perché c'ho caldo c'ho caldo non so dove metterlo un momento no non posso mettere lo metto così nel pantalone no perché c'ho questi jeans con l'elastico tipo tuta sono così ingrassato che non posso mettere i pantaloni perché se se prendo dei pantaloni normali con la cerniera e la lampo questi simulano di avere una patta ma non ce l'hanno quindi succede che ingresso invece i pantaloni elasticizzati mi consentono i pantaloni elasticizzati di diciamo ingrassare di più per diventare un corcello io devo dimagrire ogni giorno lo dico faccio la pediatrice elitica faccio la seclette e ogni giorno passo un po' di qua ci sono i suggelati i congelati il cibo temperato i frigoriferi come mi sto filmando mamma mia mi cade la camera chissà che si vedeva però ogni giorno che passa io nel giro di due o tre mesi ho fatto quindici minuti di pedalatrice elitica e mi sono filmato l'ho caricato nel mio canale secondario di youtube come un evento atletico e poi dopo un mese ho fatto anche quindici minuti di pedalatrice elitica perché mi filmavo capito perché altrimenti non faccio ginnastica qua c'è anche l'odore no del cibo per gatti per cani per tutto e guardate che piazza le guardate ci sono degli spazi guardate che l'ipermercato che spazi enormi che spazi che perché sono degli spazi che è un lavoro di water qua di solito ci mettono dei posti di vendita no qua e guardate adesso è rimasto un vuoto qua ma quando c'è molta gente si riempie di gente qua io già nel passato mi sono filmato facendo la stessa e non ha avuto molto successo in quei video ci sono dei video che faccio la che durano 15 minuti ma hanno ancora 200 300 visualizzazioni guardateli almeno li ho fatti dieci anni fa sapete dove mi trovavo 10 anni fa perché invece di farmi domande passiamo tra i vini come avrete potuto vedere perché invece di farmi domande non è andata a vedere i miei video che io vi rispondo già con i video fatti dieci undici anni e mezzo fa sette anni fa nel 2015 perché non andate a vedere i miei video io li parlo 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 non mi va di dare risposte ma parlo come per esempio non ho iniziato questo video dicendo quello che volete sapere perché perché lo dovrei fare perché se ne frega io inizio a parlare chi arriva a vedersi tutto il video arriva a comprendere tutto se no fatti suoi io faccio questo video per caricarlo ho accompagnato mia madre a fare la stessa mica per altre cose quindi sono contento che voi vi occupiate di guardare il mio video ma non faccio per le riproduzioni questo video non lo faccio per la monetizzazione perché qua c'è questo cavolo di musica anche qua un'altra sembra che ogni settore di questo gigante per mercato ci abbia le musiche saranno tutte coperte da copyright se riesce a identificarle gli algoritmi se riescono ad identificarlo di youtube quindi qua parte fritte prima che avevamo visto qua c'è il fernet branca sono gli aperitivi fernet branca branca menta branca branca pelli e prima le dirle c'erano le dirle prima si adesso le gasose come si potrà vedere da questa parte sto facendo un tour la madre fa la spesa io faccio un tour sono il turista dell'ipermercato e io non so mai non so mai dove mi sto riprendendo perché non mi porto uno nuovo perché se porto uno nuovo me lo rubano c'è o quello da 32 gigabyte che c'è la memoria piena e poi lo dovrei tenere in orizzontale invece non mi va di salire con un supporto già e poi c'è questo c'è uno che ascia di cento due tenendolo in verticale che il piano orizzontale grazie c'è un formato di video se vendite 640 per 480 poi ci dovrò mettere degli tagli di foto per riempire un margine altrimenti rimane con dei bordi neri quando lo edito e 4k dopo un'edizione a 4k a un video di 3,2 megapixel 640 per 480 e viene una porcata alla grande poi ci sono altre birre vabbè adesso trovo mi madre no non l'ho persa come qualcuno ha detto in un video che ho caricato in un altro intermercato non in questo già ne avrò fatti tre in un supermercato in un altro supermercato in questo intermercato ne ho fatti due quindi quattro video quattro video io vorrei fare la barba non trovo mai tempo perché devo fare i video per voi e io vorrei tagliarmi la barba per uscire meglio nei video però vabbè adesso smetto un po di filmare riprendiamo lontano dalla musica la barba per lontano dalla musica come scrisse in un libro avanti l'obiettere no va bene qualcuno dirà che mi firmo come il greco o come il tezzano, non mi ricordo il nome, se lui si firma così, non mi ricordo come un italiano al tezzas che faceva il camionista, come si chiama? scrivetelo nei commenti se avete visto fino a qua, come si chiamava il tezzano, realmente non me lo ricordo, il settore del profumo mi sembrava, infatti c'era una gerba mate, non so da dove viene tutto l'odore e il sapone, si vede che staranno davanti, devo guardare a destra il matica per vedere quello che mi manca, devo trovare sempre la giusta inclinazione al cellulare perché non posso vedere lo schermo, vi ricordo che ho un'occhiace 302, qua abbiamo assoldato e non sembra esserci mia madre, perché ha detto non ti filmare vicino a me, mi rende nervosa e allora io continuo a filmare finché la trovo, poi quando la trovo ti romperò un po', ti romperò un po', vediamo, no, non è quella persona che sbuca di lì in fondo al corridoio, qua mi scordo sempre di tenere fissa la camera, ecco vediamo, oh, qualche volta mi ricordo, mi scordo, mi ricordo come sta vestita, mi interrompe l'annuncio però non era musica, la musica la mettono dopo, purtroppo perché qualcuno ha lasciato male stazionata una macchina, un'onda. lì intanto, seggio di passeggio, passeggio di passeggio, passeggio di passeggio, passeggio di passeggio, poi ci sono i pneumatici, una volta mi ero fatto una foto con un'altra con testa, una volta, adesso pensano, dieci anni fa, andate a vedere nel mio instagram, ho un sacco di foto strane, ah! come vi sembra, eh? bene, bene, basta così, c'ho la cassa di risonanza, ah! 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 quanto sono scena! naturalmente tutto il mondo a guardarmi pensando la stessa cosa che io ho appena finito di dire, a chi è che succede? ma da dove è saltato fuori? poi mi sono perso, non so se l'ho persa la fattura, o se l'ho dato a mia madre, che non riesco a trovare, ah! vedo che là c'è, ormai sì, con tutta sta musica, sto video non è da monetizzare, qua c'è, qua c'è, qua c'è, ci sono sedie dei gaming, in promozione, in promozione prestano in offerta, ma la mia è molto meglio, la mia è molto meglio, comprata se non mi sbaglio, nel 21 o 22, è molto meglio, molto meglio, adesso c'è un motivo in più, qua ci sono le sedie portatili, mia madre ha una così feronera, il bordo, ed è verde, però si consumano, si consumano, si consumano, si consumano, il cuoio si è consumato, mi piaceva la penso per andare a fare il campeggio, è sempre usato in giardina, qua di nuovo i vestiti, non so dove puoi inserire, perché lei non è andata in giardina, ah! è andata a cercare un sommelier, ci sarà una sorpresa, io in questi giorni farò dei video, non vi anticipo nulla, anche perché lo dico adesso perché me lo sono ricordato adesso, ma ci sarà una sorpresa, perché ci sarà una novità in casa, dopo tanti anni, però non vi dico nulla, vi dico soltanto per quanti guarderanno questo video fatto a getto, che ci sarà una sorpresa nella mia casa, però ecco, sempre succede così, se io ho il pretesto di girare molto tempo, di girare molto tempo, il signore, ma guarda, ha voluto guardare il video, ma io dovrei trovarla adesso, adesso veramente sì, dovrei trovarla, mia madre. No, ma certo che so dove è, è solo per avere un pretesto per filmare di più, di fare il video più largo, poi se esce come premiere è come la live, se dura poco vedo che nessuno si aggancia. se la premia dura molto, ah sì, mi ricordo sì, che gliel'ho data la fattura a mia madre, quindi non mi devo preoccupare, però, insomma, evidentemente, non era nella zona delle casse, quindi strofinaci 3x2, ora, adesso, io mi domando, perché invece di venderti 3x2, non ti fanno uno sconto, perché così sei costretto a comprarne due, e se uno vuole comprarne uno, dove sta la convenienza, per il cliente o per loro? io credo che per loro, perché se si levano questo prodotto che non riescono a vendere, e tu calcola che non è che ti stanno levando un terzo, sì, no, ti stanno levando un terzo, ti fanno credere che te ne regalano uno, ma tu paghi tutte e tre un terzo del loro valore, perché non ti levano un terzo in uno, ti levano un terzo in tre, quindi, voglio dire, ti levano meno di quanto sembra, ti levano di meno, però appare 3x2, e tu dici, me ne regalano uno, ma fa che quello sconto del terzo, lo spalmi su tutte e tre, quindi alla fine ti fanno un terzo di sconto su tre, loro non ci perdono di sicuro, poi li acquistano quattro volte di meno, devono venderli perché ne hanno comprati di troppo, magari la fabbrica gli ha fatto uno sconto, se ne compravano il doppio, gli facevano pagare la metà, quindi il supermercato non va mai in perdita. Qua è la zona dei profumi, la zona dei saponi per macchine, che hanno naturalmente un profumo artificiale, che fa molto bene la nostra salute, o sto dicendo tutte cose che magari anche gli algoritmi possono decidere di demonetizzare, perché insomma sto, speriamo di no, ma sto demonizzando i prodotti, no, per carità, però voglio dire, tanti profumi ti tessaturano il naso, vediamo un po', e io sto girando, 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 perché a volte filmando logicamente non posso trovare una persona, ma almeno sto al sicuro che ho fatto il passo a 40, la gallina canta a 150, un'altra musica, non so se uscendo di casa mi sono lavato i denti, spero di sì, spero di sì, poi io voglio trovare mia madre, mi aiutate voi, mi aiutate voi, mi sto dando gini, gini, intanto vi faccio vedere tutto il supermercato, alle mie spalle, se mi riesco a inquadrare bene, vediamo come si vede, con lucidità, in profondità, con questi nuovi occhiali, nuovi, mi sembra che li ho fatti a fine del 23, sono troppo belli, mi continuano a piacere anche adesso, guardo tutto con occhi nuovi, devo fare uno slogan, ma che guardo tutto, ma guardo o realmente vedo, realmente noi camminando per il mondo, guardiamo o vediamo, ecco qua, vale la nostra esistenza, o quanto spendiamo? Per questi signori, evidentemente vale soltanto quello che spendiamo, della nostra esistenza può fregare meno a nessuno, per fortuna che mi filmo così, un po' dal basso in alto, che così non filmo eventuali bambini, perché altrimenti, vabbè che loro non sanno, se il canale è già, non dal mio video, però non ci sa mai, ci può essere qualche reclamo, sempre una scusa buona per demonetizzare, di genova ci sono bambini, no ma è passato uno un secondo, e vabbè, allora taglia quel frammento, vabbè che io non sto dicendo cose trascendentali, voli più in darici, però, però insomma, ecco qua, zona vestiti di nuovo, adesso si inizia a essere, a essere stanco, io vorrei comprarmi qualche camicia classica, e hanno solo taglie, 4 xl, 5 xl, 6 xl, guardate che belle camicie, però già ce ne ho, tipo scozzese, tipo scozzese, che bei pantaloni, però devo dimagrire, per comprarli, con le tasche, perché, più ultimamente, vado sempre in giunta, e mi sono stancato, di vestare quei pantaloni, delle tute, con le felpe, ma perché sto ingrassando, devo dimagrire, devo dimagrire, 10 x 15 kg, sennò è inutile che mi compri vestiti, mia madre mi ha comprato, anni fa, che già non ricordo neanche qua, è un pantalone, bellissimo, un pantalone bello, 46 taglie con 47, quello è un impiegazione, ed è mille righe, un velluso, bellissimo, però, stretto alla cintura, cavallo basso, tiro basso, e che è successo? mi ha detto mia madre, tanto tu due taglie, le dimagrisci, se, sono ingrassato, di 10 taglie, e non di due, sono dimagrito, già mi stavano, non chiudevano, ma mia madre ha detto, no, guarda, il signore ci fa uno sconto, in un negozio, il signore ci fa uno sconto, tu prendi questo pantalone, taglia, non so quanto, che tanto dimagrisci, adesso ti devi metto la dieta, 10 anni dopo, magari guarda qua, ho una pancia, 4 volte più grande, ormai non mi chiude di 10 cm il pantalone, non mi chiude di 10 cm, quanti di voi mi staranno vedendo fino a questo minuto, ah, mi ricordo adesso, mi raccomando, fate delle donazioni, con i super grazie, che nella penne si trovano, poi nella chat, partecipate, se potete, con il super chat di speaker, e abbonatevi al mio canale, fatevi vedere a YouTube, che non avete paura di abbonarvi, a un canale come il mio, fatevi vedere, poi io non so di audio, come siamo messi, perché qua c'è uno schiamato costante, e questo cellulare non è il massimo per l'audio, non è né il massimo, né il granieri, però, dico, lo faccio durare il più possibile il video, proprio perché lo mando come premier, altrimenti non camminerei tanto, magari dimagrisco camminando tanto, però non tutto il giorno, in quanto incoerenze, vabbè, a che via, da quando c'è questa memoria posso registrare dei video extra 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 allarghi però il problema è metterci contenuto perché io in questo cellulare mi filmo solo fuori casa con l'altro faccio delle live con il motor step power poi vorrei fare dei video in orizzontale però di non far riuscire come il premier perché ho visto che le premier quando durano 15 minuti non le segue nessuno devono durare ore come le live allora se escono nel momento giusto magari pubblico c'è live ma altrimenti no live e premier che durino poco non arriva la notificazione agli iscritti o alle persone che ti hanno visto negli ultimi 28 giorni o l'ultima settimana invece se la live è verticale e dura molto tutte le persone che nella settimana hanno visto i tuoi short entrano a vedere la live e questo vale anche sono già passato lo so che sono già passato ma ci sarà qualcuno che dice che dice già stanco a te perdi tu madre dal vivo questo momento ecco che sembro sembro santencian con un cappellino da pesca che altro posso sembrare io ho fatto dei video facendo la stessa nel passato la prima volta che questo cellulare no piaccia 302 si riscalda come una padella lo potete credere eccomi qua a corpo quasi intero devo togliere la custodia perché si sta surriscaldando il cellulare e perché è molto tempo che mi sto filmando molto tempo che mi sto filmando molto tempo allora non ho mai filmato più di 20 mi 30 minuti 40 ma mi sembra che quasi un'ora che mi filmo eccomi qua eccomi qua allora facciamoci un altro giretto moda donna promozioni anche qua siamo risbucati in fondo lontano dal cibo in cassa mia madre non c'è io intanto approfitto a guardare lì qua dell'acqua strano è sempre successo mi metto a guardare qualcosa e la mia madre si accelera la seguo e lì lenta ieri … buone ma se teneste una linda la linda la linda ecco no mi è sembrato ma non è false flag perché il colore del vestito coincideva ma false flag non era mia madre c'è enorme c'era pure un cubo di rubric rocco evito insinuazioni ma nello scaffale c'era un cubo di rubri per il momento non vi faccio vedere che ho trovato mia madre perché voglio perché non l'ho trovata perché mi va di girare e che ne so mi stanno girando delle cose qua sotto ma lasciamo che stanno frullando no perché mia madre ci mette del tempo a fare la spesa come ogni donna poi mia madre guarda i prezzi controlla ricontrolla gli scontrini e il sodio il numero nel quale finisce il prodotto per essere sicura che il prezzo è quello nel codice a barre so che si sta ispezionando ogni metro di questo ipermercato che starà in un insonato a mezzo o due ogni centimetro lo sta ispezionando però appunto proprio perché mia madre sceglie gli sconti controlla le cose random obbedisce più il suo andare il suo deambulare alle leggi della meccanica quantistica che non al normale itinerare più uno che fa la se la ritrovi e la simultaneamente oppure non la trovi nessun luogo ma intuisci in che direzione va come quanti o li trovi da qualche parte e non sai da che parte vanno ma sai che stanno lì oppure sai da dove vengono dove vanno ma non sai dove stanno restano un altro livello come se si sdoppiano tu ne vedi uno e non ne vedi un altro però dell'altro sai qualcosa e poi scopri che sono lo stesso non erano due era sempre lo stesso che è entrato in due aperture distinte però da due direzioni diverse in due tempi diversi è come se fossero stati due però era uno lo vedi e non lo lo vedi lo vedi doppio e non sai dove sta lo vedi singolo insomma tutto un casino no io non sono un fisico come dice la gente del mio quartiere un fisico atomico che poi fisici studiano sono degli scienziati che studiano la fisica non è che c'è un fisico atomico lato l'atomica e lo studio della materia non è che è una disciplina fatta dell'atomica però c'è gente che dice fisico quantico fisico atomico a mio figlio un ingegnere quantico no è un fisico che studia quantica è diverso però dire mio figlio un matematico quantico o è uno scienziato della relatività se fai scienze certo puoi fare scienze biologiche come ne sto di nuovo riandando nel settore sbagliato e questo è come se fosse una live della piattaforma viola perché non finisce mai chissà in quanto tempo si potrà evitare ah ecco l'ho trovata e non ha comprato niente c'è il suo carrellino che gli ho trovato nel parcheggio quattro cose mamma mia tutto questo giro fatto guardate qua hola te le incontri quattro cose quattro cose no compraste molto no 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 quattro cose quattro cose Grazie a tutti, dice il pronuncio. Mi sono seduto qua come mi ha indicato mia madre prima di fare perché come avete potuto vedere prima poi abbiamo tolto delle cose perché dal lunedì a giovedì ci sono degli sconti e mia madre adesso sta prendendo tutto in offerta. Oggi è sabato ma non so quando uscirà questa premiere nel mio canale principale perché ambisco e lambisco la monetizzazione anche se con sta musica che hanno accesso pure qua ci sono parlanti ovunque e c'è la camera a Duomo che mi sta filmando e questo video come minimo lo demonetizzeranno oppure mi diranno di togliere i brani altri. audio oppure i segmenti del video con la musica per reclamare la monetizzazione cosa che io questa volta non farò perché non saranno due minuti di video. qua prevedo che su 50-60 minuti di video ci saranno ci saranno dei reclami pazzeschi. quindi probabilmente spero che almeno dicano il video è idoneo a essere trasmesso, spero che non gli mettano dei limiti geografici perché l'altra volta ho tolto la pista audio anche del mio parlato perché c'erano dei limiti geografici e la sua trasmissione che includevano 150 paesi. in pratica tutto il mondo ma io sto parlando non so se si sentirà con tutti i rumori che ci sono ma a me se il video diventa idoneo a essere trasmesso ovunque non mi importa nulla che non monetizza. però in questo caso vi pregherei a voi tutte e tutti di voi monetizzarmi. come potete farlo? comprando un super grazie, partecipando nella chat con uno sticker e un super chat e abbonandovi al mio canale. io credo di avermi rimpiato lo tiente saliendo di cazzo. il latte non sta in offerta ma ce n'è bisogno, anche la birra non sta in offerta oggi, dicevo proprio che da lunedì a giovedì ci sono in questo mercato le offerte e dobbiamo prendere tutto in offerta quando possiamo. per quello comprava poco mia madre. ma allora voi che siete generosi e che forse mi demonetizzeranno il video per la tanta musica che c'è, spero che lo possiate vedere perché faranno delle restrizioni in 150 paesi. spero che si possa vedere in tutto il mondo il video anche se magari le restrizioni sono solo per la monetizzazione. quindi chissà, forse nelle isole Barbados si potrà monetizzare, ma se voi volete aiutarmi, mi raccomando, mi raccomando. avete un'arma, un'arma a vostra disposizione, un attrezzo per aiutarvi, che è il super grazie qui sotto questo mio video e anche sotto qualsiasi video comprando un super grazie. potete propormi un argomento che il vostro commentario sarà messo in bella evidenza con il colore che corrisponde al grado di super grazie. c'è una linea, quando dice di più, voi entrate in super grazie, c'è un riquadro azzurro, voi fate clic lì e potete scegliere meno di 2 euro o più di 200 euro. poi, un'altra arma a disposizione nel vostro arsenale sono gli abbonamenti e voi anche lì, se non volete offrirmi 4 o 5 euro come ha stabilito il video, hanno chiamato qualcuno al servizio cliente, se non volete darmi il minimo 4 euro schiacciate in di più nel bottone altro, azzurro, degli abbonamenti che funziona come per i super grazie e c'è una sticella orizzontale e voi scegliete meno di 4 euro o più di 200 euro al mese e così io copro tutte le mie spese con 200 euro al mese, forse copro parte delle mie spese al mese e guardate e poi se vi abbonate il vostro commento anche sarà messo in bella evidenza. mi raccomando, donate, perché donare non fa bene soltanto a chi riceve la donazione, ma fa bene anche a chi dona, quindi farà bene a voi donare a me, io lo faccio per voi, io chiedo per voi, io faccio i video per voi, devo rinnovare il mio parco tecnologico, non è possibile che da fuori casa mi filmi con un Nokia Asha 302, dovrei stare con un supporto, dovrei stare con una camera GoPro, dovrei filmarmi come P.E.D.E.P.I. o come cavolo si chiami e come Mr. Beast fuori casa, capito? con un drone che voli in altura geostazionaria, fare come Cicalone Simone che ha un suo equipe, una sua production che lo filma, invece mi filmo da solo, così con un Nokia Asha 302, ve l'ho fatto vedere prima. E quindi guardate i miei video, comprate super grazie, abbonatevi, commentate, dare like se vi piace il video, condividete i miei video e soprattutto adesso in chat intervenite con un super chat e con uno speaker che io voglio vivere di YouTube, aiutatemi a vivere di YouTube. Adesso sto seduto, ci sono delle piante grasse, non so perché hanno messo delle piante grasse, ma quattro piantine striminzite, poverine, devono essere nuove, perché peraltro così non gli danno da bere, non so, ma gli daranno da bere, sono di quelle piante che crescono con l'umidità, credo. Adesso mi alzo, devo ritrovare mia madre che l'avevo ritrovato, poi andava, ecco sta lì, adesso si, mi fanno male i piedi, perché quando ti fermi te senti stanco tutto d'un colpo, quando ti fermi, te senti stanco tutto d'un colpo. Adesso hai finito? Hai finito? No, un povero muchacho dice, sperami a caso, a far preso con questa confezione del 35, del 30, dico non intendo nada, e dice che voglio affrontare per la sicurezza. E basta controllare il prezzo? No, mi stanno cercando, però, mirate, vengo mangiando, perché sta tardi voglio... Io le vedo un po' ammusciate le confezioni. Lo che questa sicurezza, non sta tampocco aca, non ha fatto, la caccia chiguita, che venian 3 chiguita, perché, per noi si va bene, questo è grande, però, buono, il povero muchacho, io me voy a dire. Sì, sì. Sì, sì. 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 No, no. Diceva mia madre che questo è il mercato più grande di... io non so se farvelo sentire, perché voglio che sia un mistero. Ve l'ho detto prima. Dovrò controllare il prezzo della pizza, perché il ragazzo al quale gli ha chiesto non viene. Sì. 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 Grazie. Ecco qua, eccoci qua. Un garzono. Non è venuto a dire prezzi. Non è venuto a dire prezzi. Qua sembra che ci sono i prezzi come erano in dire negli anni Ottanta. Perché certo, le scrivono male. Non sono 1859. Non sono le uova, non sono 1859. Sono un euro con 85 centesimi, non 1859. Un euro con... Solo che mettono male il punto. Mettono male il punto. Un euro con... No, lo mettono bene. Sì, c'è scritto. Un euro con 859 centesimi. Praticamente mettono anche il millesimo. Nove millesimi. Per esempio, quando leggi 389 centesimi sono 3 euro con 89 centesimi. perché non sempre gli mettono il punto. Una virgola. Sarebbe una virgola. 2690 sono 2 euro con 690. Quindi forse mi trovo a tenenismo. Chi lo sa. No vino il Coven. Però... La pizza... Io ho visto il prezzo di 10.000 e qualcosa, eh? No, però sta con il... A 7... A 7... Quindi con lo sconto a 7.000. Cioè... 7.000. 7.000. 8.000 centesimi. Allora mi raccomando, eh? Partecipate. Ancora che dura questa... Siccome ho dato i consigli troppo tardi di partecipare nella chat, allora continuo a filmare. Musica de qua. Musica de là. Con questo video non monetizzo. Come mi potete aiutare a fare altre espressione? E... Partecipate nella chat con... Eh... Superchat. Commentando. Vorrei fare solo per... Per la... La chat solo per la superchat. Guarda un po'. Però poi nessuno scrive. E poi... Stickers. Dai. Sotto. Voglio vedere. Poi non so se sarò presente io. Quando ci sarà la... Questa la... Trenne. Perché magari mi dice che c'ho pubblico alle 5 del mattino. O pubblico a mezzogiorno, quando marcio. Poi magari dite il giorno della settimana. Eh... Di giorno, di notte... Mi sembra che la solfa qua non finisce pronto. Eh... Mia madre così sta guardando pure i denti d'aglio. Uno a uno quando compro una testa. Eh... Ti manca ancora molto? Quanto? Una mezz'ora? Quanto? Guarda che poi ti trovi tutti in casa, eh? Come tutti in casa? Perché... Adesso è vuota, ma... Eh sì. Sì. Però io voglio la parte dello sanziano. Ah vabbè. Che anche ci sono un sacco oggi. Non credere. No, non so se finirà prima la spesa o le due ore che ancora ho in registrazione. Preparatevi a una premiere molto larga. Preparatevi. Dai, vediamo, se ne avete il coraggio. Forza e foraggio. Come disse il cavallo. Il cavallo pazzo. Iiiiiiii. 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 Minchia, che cavolata, no? Come si fa una premiere di due ore? Devo fare un tutorial. Ecco qua. Ah! Ah! Le gomme! Le gomme! Mi voglio fare... No. Mi voglio fare una foto. Così sembro poi un deficiente urtale. Ma che cosa non si fa per una premiere fatta bene? Eh! Che cosa non si fa? Non lo so. Se lo sapessi... Non lo farei. Invece... Io... Le faccio di tutte per farla male, la premiere. Capito? Che cosa non si fa per una premiere fatta bene? Non lo so. Non lo so. Voi lo sapete. Ah! Voi lo sapete che cosa non si fa per una premiere fatta bene. Le forme di parlare, no? Che cosa non si fa? Si dovrebbe dire che cosa si fa per una premiere fatta bene. Perché in premiere ci sono cose che non mi sembrerebbe fare. Eeeh! Infatti vedo che ogni tanto nelle mie live entrano in quattro e se ne vanno ai 30 secondi. Però le live in verticale ti danno più visuals. Perchè... Così... Oh! C'è già una foto che mi sono messo più nomantico in testa e in più mi sono firmato. Quindi rimetto quella foto di quando io ero giovane, forse del 2013. O ne faccio una adesso di foto. Perchè vorrei fare delle foto per mettere... Siccome il Nokia Asha 302 filma con una filmatrice di 3,2 megapixel, relazione d'immagine 4 a 3, perché filma 6,40 x 4,80... Allora, con l'editore che ho, che ormai non edito più i video in formato 4 a 3, perché li edito col mio nuovo computer e con WSDC, che è un editore di video che gli da una proporzione 16 a 9. Allora rimane un margine vuoto. Che rimanga colorato non mi piace. Gli metto delle foto. Delle foto inerenti all'argomento, se possibile. Come nei miei ultimi video di spesa. Però... Però, diciamo... Diciamo che... Gli metto poi anche un conto alla rovescia. Anzi no, è un timer. Gli metto un timer perché così... Fa più scena, ma in realtà non sta contando niente. O informa le persone quanto tempo è passato da quando... Forse è controproducente, perché se vedono che già stanno da 20 minuti guardando la premiere, staccano. Però io lo metto lo stesso perché mi piace. Perché mi piace? Non lo so. Vedo di mettere foto è meglio. Meglio togliere il cronometro. Perché le persone vedono... Sto già da mezz'ora e la premiere dura due ore. Magari se non metto il cronometro non se ne accorgono. Qua mi trovo con degli strumenti da lavoro. Ah! Ah! Scorta! Mi voglio fare una foto. Voglio vedere se mi faccio una foto. Devo un po'... Come è che si fa a sganciare? Ah ecco. La pala. Sì, adesso sta filmando. Prima era entrato nel menù il cellulare. Voleva mangiare. È entrato nel menù. Guardate che grande che è questo supermercato. Guardate, guardate dove c'è la signora o il signore in rosso. In fondo. Che è veramente molto lontano. Guardate, guardate il fondo lì. Non so se si apprezza quella persona che cammina. È un ragazzino con una maglietta rossa. Guardate come sta lontano. Che ho fatto zoom quattro volte. Una, due, tre, quattro, credo, o due. Non so, questo cellulare quanti zoom ha. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. C'ha dei semi zoom. Allora, ricontiamo di nuovo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Sono le volte che ho pigiato quindici. Però non so quanti zoom ha effettivamente. Allora, insomma, non ho spiegato nulla, no? Ma guardate come è anche alto il tetto. Come è alto il tetto. Come è alto. Come è alto il tetto. Come è alto. E da quest'altra parte, insomma, qua ci possono entrare, a mio giudizio, quattro campi da calcio. Perché poi c'è un corridoio dove mi sono filmato prima all'entrata. se non l'avete visto, guardatelo adesso. E poi ci sta il settore là, con le scale nel fondo, con le scale nel fondo. guardate le scale. Ma sta lontano, eh? Sarà un isolato. E poi due isolati fino alla galleria di negozi. Che ci sono dei negozi, guardate. Guardate, guardate, guardate. Guardate come è profondo. più profondo del mare di Lucio Dalla. Come è profondo il mare. Ma qua è niente, perché, cioè, attraverso tutti questi settori, vedete, da lì, lì c'è l'angolo, lì continua, lì è enorme. Sai, veramente, quattro campi da calcio. Come mi diceva mia madre di dirvi a voi, in un certo senso come vi diceva a voi, non so dove mettere il cappello, perché sennò sudoku. Come mi diceva mia madre di dirvi prima, questo è l'ipermercato più grande al momento della città. Lo è stato per più di vent'anni. No, non mi sono andato a fumare nel Colosseo. Ah, che bello. Buongiorno. Buongiorno, come va? Viene usted? Una parada di pollo o di jamone e queso? De pollo? De pollo. De pollo. Bueno, allora la vendiamo a qua in rotisserie. Grazie, grazie. Y una parada di madre? Si, di pollo anche? De jamone e queso. A ver qual le piace più. Dale, grazie. Molto di grazie? Buongiorno. E' questa empanadas 2500. Ah, bene, bene. Perfetto. Ecco qua, mia madre la trovo. Empanadas, calientitas. Ci voleva perché? Io già ho fatto un colazione presto questa mattina. Cosa strana perché io di solito alle 11 faccio colazione. E allora... Mirà che incontrè l'empanata, cheso, tamoni cheso o pollo? Io l'ho incontrata. È un lugar, la signora Elza. Sì. Quale vuoi? Non mi ricordo qua, mi sembra che questa è di pollo, prova. Mirà, fritto. Sì, sì. Loro le vendono, sono quelle che vendono... Quello è il tamoni cheso. Vuoi il tamoni cheso, te sta bene? E questo? Poggio. No, non per io, tamoni fritto. Buono, questa è più fritta. Io ho preso quella di tamoni cheso proprio perché... Ho detto magari vuole il tamoni cheso. Cioè vuoi il pollo e poi c'è l'ingresso la tua mamma. Deve portare di più. Sì. Si. Se, va bene? Se, va bene? Se, va bene con i fatti? Masticamos fondo. Ragazzo l'intero. Se, voleva. Loro starco. Ci возrane. Di vero? Certo. Sì. 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 uno spuntino pollo con cipolla la madre mi passa un pezzettino formaggio e prosciutto formaggio e prosciutto ma io vi dico di tutto su di me se vi abbonate per un anno è tutta biglia ma dice ginkgo ma ci avrà il ginkgo biloba perché mi sembra di no che questo è il gini questo è il prezio che non la tiene ma questa è il prezio di risco ma la 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 ok cioè devo andare in macchina a prendere dei soldi di emergenza di scorta perché mia madre vuole comprare di più e con questo cellulare che non finisce mai di dirmi che c'ho due ore per registrare e io non finisco mai di dirvi che avete la possibilità di sponsorizzare le mie spese comprando super grazie e contando adesso nella chat super chat speaker abbonandovi datemi questa soddisfazione e non solo quelli che già mi hanno regalato nel passato e io voglio che mi ingegnate tutti e tutti voi adesso vediamo se ne possono giocare qua perché non ho merce adesso dovrò uscire fuori mi metto le lenti da sole ma non le metto da sole le metto sugli occhiali ecco con le lenti da sole però non vanno da sole vanno negli occhiali che ci accingiamo ad uscire perché devo andare al passaggio a prendere i soldi nell'auto chiaramente è una parte che non perché non vi voglio far vedere l'auto per ovvie considerazioni perché non vi voglio far vedere l'auto per ovvie considerazioni che ha fatto freddo e ciao quel signore ha fatto il botto con la macchina ho fatto quello che dovevo fare e ho anche anche penso una gomma da masticare adesso controlliamo che non venga nessuna macchina ritorniamo dentro io me ne andrei volando mi tolgo le lenti da sole che non si tolgono da sole si possono alzare vediamo un po se mi ricordo voi ricongiungermi con mia madre ah già va per la casa ecco qua sembra che già è finita la spesa donate donate super grazie super chat ecco qua e che aggiungere a calcio con l'arte 40 e questo è, chiaro... Montesconti continuano fino al lunedì Ese è simple, dice, di chocolate Ese è importante Busco un po' di chocolate perché non c'è il tempo No, ma quelle barrette dev'essere in un settore Un libro per i bambini Panini manga Non sapevo che i panini facevano dei manga Sapevo delle figurine panini Sapevo dei panini normali Sudoku A me piace fare il sudoku però con questo cellulare Che si tira subito la soluzione Volevo parlare? Parlez-vous francese? Rollers Un creed liquide Tinta liquida Viola Rosso Verde nero Ma una volta non era blu Adesso viola Quanto costa? Ehm... 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 Poggio Ehm... 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 Poggio No, no... Vengo Magari però devo uscire con più, ti l'ho detto con quanto certo se sono tutte promozioni 3x2, 2x3, 3x3, 9 queste cose qua la nostra piccola stessa tutto è sconto pure la risaglia ah ed è se gli ha dato il numero? no, perché stava trovata, è il cellico in pratica stiamo addirittura d'arrivo filmando la fase finale della spesa e forse rimango senza batteria del cellulare vi avverto che già non ho batteria nel cellulare, era carico questa mattina filmare vi ha drenato la batteria mamma mia quanta batteria che ha consumato per quello che si era riscaldato tanto io non so se si è scaricato subito il cellulare perché ho filmato molto tempo di seguito pure perché è un cellulare vecchio però già si starà per scaricare quindi a un certo punto se si interrompe il video è perché si è scaricato il cellulare io vorrei continuare a filmarmi e adesso la tesa, la dolce attesa mi tocca aspettare che mia madre è ritornata a fare la spesa perché gli ho preso del denaro che ha in caso di emergenza nella macchina non lo porta quasi mai ma oggi l'ha portato non molto, bisogna vedere se dovrà lasciare qualcosa in cassa però adesso mi tocca aspettare di sicuro un'altra ora era mezzogiorno e mezzo che uscivamo chissà perché i soldi non gli ha preso prima però adesso mi tocca aspettare se ho una goccia di carica nella batteria allora mi raccomando fate le vostre donazioni nella chat super sticker no sticker super chat super grazie sotto il video abbonatevi quindi in questo modo potrò comprarmi un cellulare per uscire fuori casa a fare i filmati perché questo già non regge più non la carica non gli dura per fare una filmazione di un'ora tutta la carica del giorno già non ce l'ha più e non mi va di portare altri cellulari fuori il moto e siete i power l'age 30 fusion allora se voi mi fate un regalo mi bastano 200 euro e con il super grazie qua sotto 200 euro oppure partecipate nella chat finché dura super chat e stickers abbonatevi e condividete il mio video se non potete darmi nulla almeno anche altri lo vedranno vi auguro fin da adesso buon fine settimana oggi è sabato ma non so quando andrà in onda questa premiere quanto tempo ci metterò ad editarla sottotitolarla caricarla in youtube tutto questo mi consuma il computer quindi donatemi del denaro perché donare farà bene anche a voi bene meno male alle due e mezza tre finita la stessa adesso andiamo a casa e io appena posto carico carico il video poi non so quando uscirà voi mi raccomando fate le donazioni mi raccomando mi raccomando grazie di tutto per tutto e a tutti se vediamo e ci vediamo io vi vediamo a tutti qui e adesì ciao ci vedremo al prossimo schezone Grazie.